Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione di Parole d'Autore, una rassegna culturale molto importante alla quale noi come amministrazione teniamo tantissimo perché crediamo che investire nella cultura sia fondamentale. Perché investire nella cultura è fondamentale? Perché la cultura è il fondamento della nostra società, è ciò che ci rende consapevoli e quindi ci rende anche i cittadini ed esseri umani migliori. Questa sera abbiamo la prima serata con un ospite d'eccezione, il professor Galimberti, per il quale vi chiedo di fare un grandissimo applauso. E quindi come si dice partiamo con il botto, ma non sarà di meno quello che seguirà. Questa rassegna la accompagnerà per tutta l'estate fino alla fine di luglio con molti appuntamenti interessanti ai quali vi invito fin da ora a partecipare perché davvero queste occasioni sono proprio importanti, perché dal dialogo, dall'ascolto, dal confronto si può solo crescere, si può solo migliorare. E quindi vi chiedo veramente di partecipare numerosi, anche perché la qualità quest'anno è veramente molto molto alta e io ringrazio per questo l'assessore Andrea Parolo, vice sindaco, assessore alla cultura, che ha voluto fortemente questa rassegna e l'ha fatta crescere nel corso di questi anni. Ringrazio anche naturalmente la biblioteca San Biagio, biblioteca di Monselice e l'associazione Cuore di Carta, che organizza appunto l'evento insieme all'amministrazione comunale. Ora io mi taccio perché ringrazio anche Stefano che ha sistemato le luci, perché abbiamo voluto che il nostro ospite della prima serata fosse completamente a suo agio nella nostra Monselice, nella quale speriamo di vederlo anche presto come turista, vero professore? Ecco, e quindi io vi auguro una buona serata e un buon ascolto, un buon proseguimento. La serata sarà incentrata sui giovani, i giovani sono una parte fondamentale, anzi sono il nostro futuro e quindi tutti noi questa sera spero che andiamo a casa con uno spunto di riflessione, pensando su quello che ognuno di noi nel suo ruolo può fare per migliorare la nostra società e fare crescere bene i nostri ragazzi. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti, mi unisco al saluto, al messaggio del Sindaco, ricordando che questa rassegna culturale rappresenta un'offerta, un prodotto culturale dell'amministrazione comunale per il nostro territorio, per la nostra comunità e abbiamo scelto questa terza edizione con sette serate che si svolgeranno tutte di giovedì sera e quale vi auguro di poter partecipare tutti giovedì sera e abbiamo voluto organizzare questa rassegna culturale per portare degli ospiti, graditi ospiti, degli ospiti che rappresentano poi delle firme di rilievo nel panorama nazionale, questo per dare la possibilità alla nostra comunità di riflettere su tematiche, su temi che riguardano la nostra attualità e il nostro tempo e questa sera l'abbiamo fatto con il professor Umberto Galimberti. Ovviamente questa rassegna culturale è stata possibile, è stata resa possibile per la partecipazione di numerosi soggetti che anche con il loro contributo economico hanno dato la possibilità di realizzare questo evento. Questo evento nasce dalla biblioteca comunale, come diceva il Sindaco San Biagio di Monselice, ma ha avuto la collaborazione di Cuore di Carta Eventi, che ne ha seguito la direzione artistica, ma soprattutto ha avuto il contributo di numerosi sponsor che li leggo questa sera. Innanzitutto un ringraziamento va a Radio Latte e Miele e Radio Love FM, un ringraziamento va a Via Vai Promo Studio Comunicazione, un ringraziamento va all'azienda Museo TMB Tacromeccanica Betto, un ringraziamento va a Steel Group SRL.Edison Monselice, un ringraziamento va all'impresa Zagolin Giovanni SRL, un ringraziamento va alla FIDEA Iniziativa Medica, un ringraziamento va a SESA, un ringraziamento va alla Banca BCC, Banca di Credito Cooperativo Patavina, un ringraziamento va ai Lions Club di Monselice e infine, ma non per ultimo, un ringraziamento va anche a Civico 28 per aver curato l'allestimento di questa sera. Buon spettacolo a tutti e passerei la parola, chiedo al professore Umberto Gallimberti di venire sul palco. Buonasera, sentite? Allora, dobbiamo parlare di giovani che in questa stagione stanno abbastanza male, se appena consideriamo che nelle scuole superiori si suicidano qualche cosa come 400 studenti all'anno, ci sono 3 milioni di anoressiche, 2 milioni di autolesionisti, 200 mila affetti da Kikimoru, quella sindrome che viene dall'estremo oriente dove i ragazzi si piazzano davanti al computer, non escono mai dalla loro stanza, i genitori gli portano il cibo e tutto quello che serve per i loro bisogni fisiologici e dopo due anni si suicidano. Stanno male e le persone anziane, mi riferisco soprattutto ai nonni o ai padri anche, non devono dire ai miei tempi perché i miei tempi erano molto più favorevoli rispetto ai tempi dei giovani di oggi. Io ricordo per esempio che avevo 21 anni, ho fatto, mi è stata assegnata una supplenza in un liceo classico da ottobre al giugno dell'anno successivo perché la titolare era in gravidanza a rischio e non avevo ancora finito l'università, ero al quarto anno di università e quindi il futuro era lì ad aspettarmi, mentre se oggi uno si lavora in filosofia la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Quindi ai miei tempi, ai giovani, non ditelo mai perché non sono più i nostri tempi. I giovani vivono in quell'età che io ho definito l'età del nichilismo. Nichilismo è una parola che è stata inventata a metà ottocento da un russo, Turgano Yev, però è stata tematizzata da Nietzsche, il quale ha detto che il nichilismo consiste in manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Manca lo scopo vuol dire che il futuro non è più una promessa e se non è una minaccia, come dice quel filosofo francese, Miguel Benasayaghi, in un bellissimo libro sui giovani intitolato L'epoca delle passioni tristi, edito da Petrinelli, se non è una minaccia il futuro è certamente imprevedibile e se il futuro è imprevedibile non retroagisce come motivazione, perché noi non andiamo avanti nella vita perché qualcuno ci spinge, andiamo avanti perché qualcosa ci attrae e se il futuro è imprevedibile non retroagisce come motivazione, per cui perché devo studiare, perché devo lavorare, perché devo darmi da fare e al limite perché devo stare al mondo. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti quei perché che ho elencato. Tutti i valori si svalutano, i valori non dobbiamo enfatizzarli eccessivamente perché non sono entità metafisiche che piovono sulla terra e a cui ci si attiene. I valori sono dei semplici coefficienti sociali che una comunità adotta perché li ritiene i più idonei alla riduzione della conflittualità. Non so, prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valore di cittadinanza. Sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. Meno male che ogni tanto i valori crollano e ne sorgono di altri, se no saremo ancora all'età dei babilonesi. Ma le prime due botte sono tremende, il futuro non è più una promessa. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Oggi i giovani sono convinto che bevono, bevono tanto. Adesso non vorrei che la mia descrizione facesse riferimento alla mia esperienza che è a Milano, quindi una società metropolitana che forse non riproduce esattamente la condizione dei vostri giovani. però qualche somiglianza ci può essere. Dicevo i giovani bevono, bevono tanto, si drogano, a mio figlio no, dagli un'occhiata ogni tanto. Ma non credo che lo facciano per il piacere che queste sostanze possano dare. Sì ci sarà anche quello, non lo escludo. Ma penso che lo facciano, che assumono queste alcol e droga come un anestetico. Vogliono anestetizzarsi dall'angoscia che provano quando sporgono il loro sguardo verso il futuro. E perciò vivono l'assoluto presente in presa diretta, 24 ore su 24. In un contesto veramente angosciante. Beh, ma come vengono al mondo questi giovani? Che educazione hanno questi giovani? Le istituzioni sono la famiglia e la scuola, che secondo me sono due disastri. La famiglia perché non sta attenta alla crescita dei figli. Non è che una volta che le è messe al mondo i ragazzi vengano su come le piante. I ragazzi vanno educati e l'educazione prevede un'attenzione nei loro confronti, che comincia subito dopo la nascita. Perché per esempio Freud dice che nei primi sei anni di vita, primi sei anni di vita, si formano definitivamente, guardate che ci sono degli avverbi importanti, definitivamente vuol dire che dopo non si recuperano più. Si formano definitivamente le mappe cognitive e le mappe emotive. Le mappe cognitive sono il modo di conoscere il mondo. Non è che nei primi sei anni di vita conosci tutto, ma il modo con cui conosci lo si decide in quegli anni lì. Mappe emotive vuol dire la risonanza emotiva che gli stimoli del mondo producono dentro di te. Bene, queste due mappe si formano nei primi sei anni di vita. Le neuroscienze sono un po' più severa di Freud e ci dicono che queste mappe si formano nei primi tre anni di vita. I bambini fanno vedere come conoscono il mondo e come lo sentono dentro di loro. E come lo fanno? Lo fanno con quegli scarabocchi che disegnano sui fogli bianchi, lo fanno con i disegni approssimativi con cui si esprimono, lo fanno con i colori che usano. Poi alla sera torna la mamma, non sto dando le colpe alle mamme perché capisco benissimo che dopo che hanno lavorato anche loro, perché oggi una famiglia si tiene insieme se lavora padre e madre perché uno stipendio solo non basta. Quando arrivano a casa i bambini fanno vedere quello che hanno fatto e la mamma gli dice sì adesso però non ho tempo perché devo fare da mangiare, li guardo domani, domani vuol dire mai. E così i bambini ricevono il primo messaggio negativo che è un messaggio che si traduce in quindi ho fatto qualcosa di non interessante. Ricevono la prima ferita alla loro identità. E qui prestate un po' di attenzione perché è importante. L'identità noi non ce l'abbiamo perché siamo nati. L'identità è un dono sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra identità ci è data dai riconoscimenti che riceviamo. Per cui se un bambino riceve dei riconoscimenti positivi sia dalla mamma e poi quando va a scuola dalla maestra ha la possibilità di crescere con l'identità positiva. Se la mamma gli dice ma no, non sono belli questi disegni, oppure sei un cretino, poi la maestra gli dice qualcosa di analogo e allora cresce con l'identità negativa. Ma anche voi adulti quando andate a lavorare se avete un avanzamento in carriera avete un incremento di identità. Se vi fanno il mobbing entrate in una demotivazione, poi in una depressione, poi a limite anche in un gesto estremo, cioè avete un decremento di identità. L'identità è un dono sociale. Queste cose i greci le sapevano perché i greci sono il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra. Aristotele dice per esempio che se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. Purtroppo noi non abbiamo abbandonato la cultura greca perché siamo entrati nella cultura giudaico-cristiana e quindi dobbiamo dirlo con estrema chiarezza che il cristianesimo ha messo l'individuo prima della società. Perché? Perché la cosa più importante è salvare l'anima. E l'anima non la si salva individualmente, non la si salva comunitariamente. Questa cultura dell'individuo prima della società è stata tematizzata da Sant'Agostino, nel quinto secolo dopo Cristo, in cui dice per esempio che lo Stato non si deve occupare del bene comune perché a quello ci pensa la religione. Non ci deve occupare della salvezza dell'anima perché a quello ci pensa la religione. Lo Stato si deve occupare unicamente di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. Quindi è un lavoro solo negativo, al punto che nel 1700 Jacques Rousseau dice che i cristiani non sono buoni cittadini. Lo possono essere di fatto ma non di principio, perché quel che a loro interessa è la salvezza dell'anima, non il bene della società. Le ricadute di questo primato dell'individuo rispetto alla società lo vediamo nel nostro individualismo sfrenato, nel nostro egoismo, per cui per esempio anche a livello civile teniamo in ordine il nostro orto e poi magari sporchiamo le aree comuni, perché tanto noi veniamo prima. Questa è la forma più sbagliata di convivere. Del resto anche la parola persona vuol dire maschera, la persona era la maschera che gli attori indossavano per amplificare la voce, non avevano i microfoni, in epoca romana e greca. Ma persona etimologicamente vuol dire per sé unum. Prima l'individuo, per sé unum. Sapete la persona come la chiamano i greci? Prosopos. Prosopos vuol dire pros davanti. Persona è colui che sta davanti a me. Prosopsopsis, che sta davanti ai miei occhi. Orao, opsome vuol dire vedere. Anche ottico nella nostra lingua, no? La persona è chi mi sta davanti agli occhi. Quindi vedete che la relazione per il mondo greco viene prima dall'individualità. E Platone dice addirittura che se tu con la parte migliore del tuo occhio, che è la pupilla, guardi la parte migliore dell'occhio dell'altro, vedi te stesso. Allora la nostra individualità, la nostra identità è un dono sociale. Se riuscirà a cambiare la nostra cultura occidentale, che è fondamentalmente cristiana, perché per me sono cristiani sia credenti, sia agliati, sia licenziati, sia agli agnostici, sia miscredenti. Sono tutti cristiani in occidente. Tutti, senza nessuna differenza. Per la semplice ragione che il cristianesimo ha diviso il tempo in tre parti. Il passato che è negativo, peccato originale. Il presente che è redenzione. Il futuro è salvezza. Il futuro sempre positivo. La scienza, che solo discorsi banali e stupidi e superficiali contrappongono alla religione, pensa allo stesso modo. Pensa che il passato sia negativo. Ignoranza. Il presente ricerca. Il futuro. Futuro progresso. Futuro sempre positivo. Cristianesimo laicizzato. Anche Marx è un grande cristiano sotto questo profilo, perché pensa che il passato sia male, ingiustizia sociale, il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro, giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che nel passato si formano le nevrosi, i traumi, nel presente terapia, nel futuro, guarigione. Tutti cristiani in occidente. Al punto che Gianni Bajetbos, un teologo che è morto una decina di anni fa, teologo di destra, molto di destra, cioè nonostante eravamo molto amici perché era molto intelligente, diceva sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? Risposta, no. Sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? Risposta, no. Occidente e cristianesimo coincidono nel modo di pensare, perché il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura, è la cultura della speranza, è la cultura che porta rimedio, che pensa che il futuro porti rimedio al mali del passato. Ma chi l'ha detto? E quando ho sentito i politici che usano le parole speriamo, auguriamoci, auspichiamo, tutte parole della passività sono queste. Aspettiamo che qualcosa succeda. Non succede niente se non fai niente. Giustamente Pasolini aveva tolto la parola speranza dal suo vocabolario, perché è una parola passiva, ferma, immobile. Attende. Attende. Ma come vedete tutti quanti noi continuiamo a pensare che il futuro porti qualcosa di buono, ma non è così. Ma torniamo ai nostri ragazzi che crescono, e crescono male i nostri ragazzi, perché i genitori riempiono le loro camerette di un'infinità di giocattoli, di regali. Regali a Natale, regali a Pasqua, regali a compleanno, regali se sei promosso, regali nella festa che i ragazzi fanno tra di loro, 30 in una classe, 30 feste l'anno, per i compleanni, eccetera. Ma siamo pazzi. Se noi riempiamo di regali i nostri bambini, facciamo un servizio pessimo, perché spegniamo dentro di loro il desiderio, perché il desiderio è mancanza. E proprio perché il desiderio è mancanza, e il desiderio è una cosa, ti dai da fare per ottenerla. Ma se la ricevi prima ancora di averla desiderata, quello che muore è il desiderio. E gli effetti di questo comportamento genitoriale, lo si vede quando i ragazzi arrivano all'adolescenza, dopo dove i genitori vengono a dirmi a mio figlio non interessa niente, per mio figlio è tutto indifferente. E chi gli ha distrutto il desiderio? L'averli priempiti di doni, di riconoscimenti e di regali quando erano piccoli, perché il desiderio è mancanza. E la mancanza ti muove a raggiungere l'oggetto del desiderio. Ma se ce l'hai già l'oggetto, non desideri più niente. Va bene, anzi va malissimo. Con i bambini vi da parlare molto, molto, tantissimo. I padri di solito non parlano con i figli perché si annoiano, soprattutto se sono piccoli. Le madri parlano con i figli, però parlano solo a livello fisico. Guarda come sei accaldato, fatti la doccia, mettiti la maglia, stai bene, hai la febbre. Mai una domanda psicologica, tipo non so, sei felice? Che magari il bambino cominciare a pensare alla felicità, a pensare a qualcosa di più nobile, che non sia l'accaldamento o la maglietta. No, queste parole non vengono. I genitori devono sapere che le loro parole sono importanti fino a circa 12 anni, cioè fino a quando non esplode la sessualità. E allora, se hanno parlato continuamente, se hanno riconosciuto, li hanno osservati, hanno riconosciuti i progressi della loro crescita, e allora a quel punto, anche dopo, i ragazzi avranno, sono stati allenati a sentire le parole dei genitori, e anche le loro parole, anche dopo 12 anni, le parole genitoriali avranno significato, altrimenti diventano parole vane. Il padre dice studia, la madre dice studia, il figlio va avanti come prima. Se invece, ho detto, ho fatto prima riferimento alla comparsa della sessualità, se invece il ragazzino ha una sua amichetta amorosetta, e questa gli dice studia, allora magari lo studio si attiva. E allora dopo 12 anni cosa devono fare i genitori? I genitori dopo 12 anni devono sapere che è fisiologico, che i figli non li ascoltano più, è fisiologico, ripeto, devono fare quello che Freud chiama complesso edipico, cioè uccidere il mondo genitoriale, che al di là del linguaggio truscio e della psicanalisi significa che i figli passano dall'amore incondizionato e verticale che hanno per i genitori, all'amore condizionato orizzontale che hanno con i loro coetanei. E l'amore condizionato è sempre condizionato da che cosa? Dei reciproci vantaggi, matrimonio compreso. E si perde quello verticale. Naturalmente per perdere l'amore verticale, che è l'unico che hanno conosciuto fino a 12, 13, 14 anni, e i ragazzi devono farsi forza, devono anche sbattere la porta, devono staccarsi da una qualità d'amore per inoltrarsi a una qualità di semi-amore, che è l'amore dell'amicizia, l'amore anche che si chiama amore, ma però anche quello nasce dai reciproci vantaggi. Perché se questa rivolta non la fanno in casa, perché i padri fanno gli amici dei figli, ma vergognatevi, gli amici e i figli se li trovano da solo, voi dovete fare l'autorità, dovete fare il modello di comportamento nella vita, non gli amici dei figli. Fanno gli amici dei figli perché hanno paura dei figli dopo, hanno paura che chissà cosa succede, ecco, invece devono continuare a mantenere l'autorità. E soprattutto dopo i 12, 13, 14 anni, quando le parole genitoriali non contano più niente, quello che funziona è l'esempio. Non è che le nostre famiglie danno grandi esempi, eh. Le separazioni sono l'ordine del giorno, i divorzi anche. Benissimo, perché è meglio separarsi e divorziare, piuttosto che avere una famiglia violenta, o se non violenta, dove non ci si scambia più una parola, e si diventa indifferente a tutti in un clima gelido, se queste sono le condizioni, o la violenza, o il gelo comunicativo, è meglio separarsi. Però, però non pensate che separandovi, ah sì, l'abbiamo spiegato ai figli, l'abbiamo spiegato, eh, potete fare tutte le spiegazioni del mondo, ma quando vi separate i figli perdono i loro punti di riferimento, dove si era orientato il loro amore, lo perdono. E incominciano a diventare furbi, no? Quindi si stacca il genitore che gratifica di più, e i genitori per gratificarsi, quando non usano i figli come strumenti di ricatto, in occasione delle separazioni e dei divorzi, li usano in modo seduttivo, riempiendoli di gratificazioni, e continuando quindi quel sistema di estinzione del desiderio. Poi i figli vanno a scuola, qui succede un'altra cosa. La scuola italiana, ve lo dico subito, la scuola italiana non educa, al massimo istruisce. Quando ce la fa? Quando ce la fa? C'è un settore, la scuola italiana, in cui c'è un momento di educazione. Cosa vuol dire istruire? Passare un contenuto culturale, da chi lo possiede a chi non lo possiede. Questa è l'istruzione. Però Platone ci avverte che la mente non si apre se prima non hai aperto il cuore. E che cos'è il cuore? E tutto quello che passa dentro, nell'interiorità di questi ragazzi. Il cuore è il luogo delle emozioni, il cuore è il luogo dei sentimenti. Quanti sono i professori che parlano con i loro ragazzi? Che dedicano invece di dedicare l'ora di ricevimento ai genitori, potrebbero dedicarli ai loro ragazzi, per conoscerli, per sapere cosa gli passa dentro. Tutte queste cose succedono nella scuola elementare abbastanza bene. Nel senso che nella scuola elementare la maestra non è solamente una che insegna a leggere, a scrivere, a far di conto. È anche una che si interessa del carattere di questi ragazzi, capire se uno è un leader o un gregario, se uno è un bullo e l'altro invece è un sottomesso. Capire che problemi ci possono essere, capire qual è la famiglia d'origine. Tante volte devono pulire il sedere questi bambini perché in prima e seconda elementare magari se la fanno ancora addosso. Vedere i tratti di timidenza o di introversione di tanti bambini. Lo fanno, lo fanno. Però che cosa succede molto spesso? Che i genitori parlano male della maestra. E qui è un altro disastro. Perché è un disastro? Perché il bambino che prima ha conosciuto l'amore solo verso i genitori, quando va a scuola ha la prima differenziazione affettiva. Oltre ai genitori vuol bene anche alla maestra. Oggi poi le maestre le si chiama per nome, no? Non sono più le maestre di una volta. Non so, io mi ricordo, il mio maestra per esempio mi ha spaccato il naso perché aveva un anello che gli aveva regalato il suo marito che era tornato dalla guerra in Libia. Cioè quegli annelloni. E oltre a pestare tutti quanti le mani dei bambini sul banco, mi aveva dato uno schiaffone e mi ha rotto il naso. Poi mi ha chiamato mia mamma che era a sua volta una maestra, e uno tra lì la mia mamma e cosa fa? Una sberla, boom, via. Se la maestra ti ha picchiato vuol dire che aveva ragione la maestra. Questa è la collaborazione scuola e famiglia. Questa è la vera collaborazione, non un'altra. Va bene. Detto questo, non si deve mai parlare mai della maestra. Può essere che qualche maestra non funzioni. Benissimo. Adesso poi non c'è una maestra sola, ce ne sono due o tre in ogni classe. Si può parlare con le altre due. Uno non sa che sarà così sfortunato di avere tre maestre negative. Si parla con la dirigente scolastica, apposto che la dirigente scolastica ha una certa attenzione sul materiale degli insegnanti che insegnano nelle rispettive scuole. Ma non si parla mai male alla maestra. Perché si interviene nel momento in cui il bambino differenzia la sua affettività e passa dal mondo genitoriale al mondo delle insegnanti e ama due soggetti diversi. Se si parla male alla maestra, se si crea nel bambino una contraddizione, una scissione che ferisce l'affettività. E qui apro e chiudo una parentesi. Bloiler, Eugen Bloiler, il grande psichiatra a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quello che ha denominato la demenza precoce schizofrenia, dice che il primo sintomo della schizofrenia è una ferita a livello affettivo. Adesso non dico che se voi parlate male della maestra i ragazzi diventano schizofrenici, per carità. Però certo gli ha creato un disagio, che come risultato ha, dunque, se in casa si parla male della maestra, che a me piaceva, va a finire che io non mi fidio più di nessuno. E così comincia la sfiducia verso il mondo adulto. Bel servizio, no? La scuola elementare va abbastanza bene in Italia. Andava, perlomeno. Io mi ricordo che dieci anni fa ho assistito a un congresso a Venezia, dove c'era la classifica di tutte le scuole del mondo. E la scuola italiana era al sesto posto, quando la prima università era al 187 posto. Era la prima università italiana. Adesso anche la scuola elementare è scesa dal sesto al diciottesimo posto, quindi siamo un po' calati. Però tutto sommato lì un momento educativo c'è ancora. Quando si va nelle scuole medie finisce tutto. Io non so perché i primi tre anni delle scuole medie, prima, seconda, media e inferiore, è il settore scolastico più disastrato di tutti. Non so se ne avete esperienza, o se quello che dico non succede a Monselice, ma è proprio un vero disastro. Non ho capito mai perché. Un'ipotesi me la sono fatta. Che probabilmente a insegnare nelle scuole medie e inferiori, ci sono degli insegnanti che magari avevano vinto la cattedra nelle superiori, ma siccome non c'erano posti, li hanno collocati nelle inferiori. E quindi sono abbastanza demotivati. Mentre, nelle scuole medie e inferiori, mentre una volta, ho parlato prima di sessualità, la sessualità compareva intorno ai 14-15 anni, perché eravamo un po' più acerbi, un pochino più, un po' più arretrati, adesso invece fa la sua comparsa tranquillamente nelle scuole medie inferiori. Anche perché i ragazzi, con i loro telefonini in mano, incominciano a guardare il porno a 7-8 anni. Non crediate. E pensano che la sessualità sia quella roba lì, che l'amore sia quella roba lì. In un periodo in cui non c'è ancora un accompagnamento psicologico al gesto sessuale. Loro vedono gesti sessuali, ma non c'è ancora una componente psicologica che accompagna il gesto sessuale. E quindi si fanno quelle idee lì. Perché parlo di sessualità? Perché la comparsa della sessualità determina un cambiamento radicale del mondo. E infatti incomincia la pre-adolescenza e poi prosegue nell'adolescenza che tutti quanti sapete che nell'età adolescenziale i ragazzi sono in crisi. Crisi è una parola greca che viene da crino, che vuol dire giudico. La comparsa della sessualità non è una cosa che si aggiunge alla mia visione del mondo. La comparsa della sessualità è una cosa che comporta la radicale trasformazione della mia visione del mondo. E perché è questo? Non so, faccio un esempio. Quando un bambino, quando uno è un ragazzino pre-sessuato tramonta il sole e lui dice ah, il sole va a nanna. Quando invece cresce e fa la sua comparsa la sessualità il tramonto del sole diventa un evento romantico cioè si carica di erotismo quindi comporta una radicale trasformazione del mondo. Freud, in una lettera al ginnasiale scritta nel 1909 dice che la scuola cito deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano così. Perché, dice Freud, la trasformazione psicologica il lavoro psicologico che i ragazzi devono fare in quell'età è tale da assorbire tutta la loro energia ed è così difficoltosa che la scuola non deve essere l'ultima istanza della vita ma solo un gioco di vita. Dunque, gioco di vita cosa vuol dire? Non vuol dire che i ragazzi a scuola devono giocare. Il gioco sta in piedi se ci sono le regole, no? Non si può giocare senza regole. Ci vogliono le regole. Anche il calcio ha le sue regole. Se no, come fai a giocare? E allora la scuola deve essere il luogo dove si gioca cioè si imparano le regole di vita e perché lo chiama gioco? Perché se sbagli puoi rientrare nel gioco mentre se sbagli nella vita non entri più nel gioco. Capito la differenza? E allora, dice Freud, è così tanto il lavoro che i ragazzi compiano hanno la loro stessa la loro stessa insaputa per cui la scuola deve essere non l'ultima istanza della vita ma un gioco di vita. Cioè dove impari le regole e se sbagli puoi rientrare in gioco? La sessualità compie questa operazione ed è un'operazione potente perché dovete sapere che la razionalità la razionalità deciso dai lobby frontali arriva a maturazione a vent'anni quindi per quel periodo lì i ragazzi sono in preda esclusivamente alle loro emozioni agli sbalzi sentimentali per cui anche una piccola cosa li porta nell'esaltazione così una cosa negativa anche piccola li porta nella depressione più tragica li porta ad assumere degli atteggiamenti o delle soprattutto le ragazze con comportamenti alimentari pericolosi i ragazzi devono fare i bullying per far vedere che sono maschi insomma è un periodo faticoso l'adolescenza è un'età incerta ma soprattutto a patirla sono le ragazze anche se sembra che non la patiscono e forse non sono neanche consapevoli del conflitto che c'è in loro perché noi pensiamo che la nostra identità sia data dal nostro io 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 continuiamo a dirlo questo io io voglio io desidero questi sono i miei obiettivi devo raggiungere questi obiettivi e via di seguito io ma la nostra vita non è regolata dal nostro io la nostra vita è regolata dalla specie questo i greci lo sapevano è regolata dalla specie la quale ci fa nascere ci fa crescere ci fornisce di sessualità per la riproduzione di aggressività per la difesa della prole poi ci deprima ci porta via sia la sessualità sia l'aggressività non è che i vecchi sono buoni perché sono saggi i vecchi sono buoni perché sono desessuati e sono solo proprio delle carogne sono anche meno aggressivi di quando erano giovani ecco perché questa è la specie questo è il ciclo della specie e la specie è più forte dell'individuo perché la specie interessa la sua economia e la sua economia consiste nel ricambio generazionale nel ricambio degli individui che una volta avveniva fisiologicamente intorno ai 40 50 anni adesso grazie alla medicina si vive al di là della misura umana perché l'uomo è ancora programmato per quell'età e attraverso la medicina si è allungata non la vita si è allungata la vecchiaia in modo che tu debba assistere fino prima ancora di morire alla decomposizione del tuo corpo con tutte le malattie pensate che negli ultimi due anni di vita si consuma il doppio delle medicini che si sono assunti in tutta la vita questo è per capire una vecchiaia che è veramente patetica quando vedete quelle persone anziane che vanno in giro col badante sotto il braccio col telefonino il telefonino c'era la badante sono proprio spettacoli della paura io non sono d'accordo che si debba vivere così a lungo oltre al fatto che si è distrutto anche il ciclo generazionale perché oggi che cosa succede una volta le generazioni erano due e i padri lasciavano il loro bene i figli oggi bisogna aspettare che muoiono i nonni per avere qualche bene i genitori sono lì in attesa per prendere il postere che hanno i nonni sto parlando di generazioni e i figli ai figli sono giovani anche fino a 50 anni devono aspettare tutte queste morti non va bene comunque se siete contenti di vivere a lungo io non lo sono proseguiamo in questo scenario prosceniamo in questo scenario e arriviamo fino alle scuole superiori dunque le scuole superiori ho detto prima che la scuola italiana non educa ma al massimo istruisce e qui cosa succede in termini di istruzione beh innanzitutto bisognerebbe che le classi non siano composte da 30 persone al massimo 12 o 15 perché se tu devi seguire i percorsi del cuore come si chiamo io cioè i ragazzi nei loro processi emozionali e sentimentali li devi seguire e li devi seguire anche perché i genitori ormai sono impotenti abbiamo detto prima che dopo 12 anni le loro parole diventano parole vane non puoi seguirli se hai 30 ragazzi in classe quindi dovrebbe ridurre le classi e perché non lo si fa è perché bisogna aumentare il numero dei professori e per professori costano e allora si fanno classi di questo tipo che significa che i ragazzi sostanzialmente non vengono conosciuti non so se vi capita ogni tanto quando qualche ragazzo si suicida in maniera eclatante di cui ne parla anche la televisione solo per la modalità eclatante con cui si è ucciso meno male che non lo dicono tutte le volte perché altrimenti ci sarebbero anche dei processi imitativi poi interpellano i professori questi qui vengono giù dal per dicono ma chi l'avrebbe mai detto a me insorge immediatamente una domanda ma li hai guardati in faccia a questi ragazzi li avevi davanti tutti i giorni Dio buono hai parlato con loro hai capito cosa c'era e cosa non c'era la scuola educa se riesce a fare questo processo i ragazzi vengono a scuola che non sono ancora che sono sostanzialmente promossi nei loro comportamenti dalle pulsioni e quelli che ne hanno un po' più di altri fanno i bulli che è un bullo un bullo è uno che si esprime con i gesti perché il linguaggio è poverissimo ma soprattutto il bullo è uno che non ha la risonanza emotiva dei suoi comportamenti Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente e usa il verbo sentire naturalmente da sé non è più vero che gli adolescenti di oggi sentono naturalmente da sé la differenza tra il bene e il male tra ciò che è grave e ciò che grave non è che sentono naturalmente la differenza tra insultare un professore magari non in presenza cose che abbiamo fatto tutti o pigliarlo a calci se non di peggio e oggi ci provano anche i genitori che sentono davvero la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla non sto esagerando perché quando per ragioni giornalistiche mi capita di leggere le risposte che questi ragazzi che fanno si nobili cose le risposte che loro danno ai giudici queste risposte sono impressionanti le risposte sono ma cosa abbiamo fatto ma cosa c'è di male noi volevamo solo divertirci non hanno la risonanza emotiva dei loro comportamenti non distinguono il bene dal male non distinguono ciò che è grave e ciò che grave non è e allora bisogna bisogna in qualche modo portarli dalla pulsione all'emozione l'emozione è appunto questa risonanza emotiva perché se non ce l'hai diventi un personaggio pericoloso lo fa la scuola ma neanche per sogno ah ma noi non siamo psicologi malissimo si istituisca una formazione scolastica per coloro che devono diventare insegnanti e gli si faccia studiare anche la psicologia ma è mai possibile che si diventa professori e si ha a che fare con studenti in età evolutiva e nel suo curriculum in professore non incontra mai un libro di psicologia dell'età evolutiva è possibile questo questo è quello che succede poi i professori dovrebbero anche fare un corso di teatro secondo me perché la cattedra è un palcoscenico e allora se tu reciti la Divina Commedia non dico come benigni ma quasi oppure ti incaronisci sulla battaglia di Campaldino nota 31 pagina 50 i ragazzi non leggeranno mai la Divina Commedia ma se la reciti sì e allora bisogna insegnare a recitare anche questi professori eh ma i professori sono pagati pochi è vero sono pagati in Italia un terzo di quello che costano all'estero però all'estero li preparano in questa maniera i professori li preparano in questa maniera che ho descritto soprattutto nei paesi nordici dove i professori non è sufficiente che facciano un concorso dove documentano la loro preparazione culturale ma sono sottoposti a un test di personalità che misura l'empatia perché se non sei empatico non devi fare professore non lo devi proprio fare anche per te stesso perché se non hai empatia e non sei in grado di relazionarti all'altro e di capire immediatamente cosa passa nel cuore e nella mente di un altro perché questa è l'empatia come fai andare alla scuola tutte le mattine alle 8 e venire fuori all'una e questo per 40 anni senza la capacità di percepire chi hai di fronte ma come si fa a fare queste cose provate a chiedere se sarà possibile fare del test di personalità ai professori se non hai l'empatia non fai il professore come uno alto di uno in 50 non gli viene neanche in mente di fare il corazziere perché alto di uno in 50 punto tu potrai fare mille cose ma non devi insegnare per insegnare devi essere empatico empatico non vuol dire che devi essere spiritoso non vuol dire che devi sedurre con la tua personalità ma la tua personalità deve essere messa al servizio della cultura che è una dimensione enormemente seduttiva e devi usare la tua personalità per renderla seduttiva la cultura non devi mai andare fuori a mangiare con i ragazzi la pizza per essere simpatico perché quel giornolino sei più Dio sei uno di loro hai perso quell'autorevolezza che loro ti hanno consegnato e potrai esprimere solo l'autorità del ruolo ma l'autorità del ruolo non è l'autorevolezza che ti danno gli studenti perché se gli studenti ti danno l'autorevolezza tu li puoi far studiare al doppio perché loro ti corrono addietro come puledri ma l'autorevolezza te la danno loro perché te riconoscono te riconoscono può questa la scuola? no e allora abbiamo la scuola che abbiamo professori poi dovrebbero anche capire che ci sono diversi tipi di intelligenza non c'è solo l'intelligenza logico-matematica che è l'unica che funziona nella scuola cioè l'unica che si insegna nella scuola l'intelligenza logico-matematica è l'unica che si insegna a scuola ma ci sono tanti altri tipi di intelligenza c'è l'intelligenza linguistica di uno che non ci mette niente a imparare le lingue c'è l'intelligenza musicale di uno che percepisce più i rapporti sonori di quanto non sono i rapporti logico-matematici c'è anche un'intelligenza psicologica di chi capisce cosa passa nell'animo di un altro c'è persino un'intelligenza somatica come la chiamo io prendete un campione di calcio non è che deve fare un ragionamento per fare gol perché il suo corpo sente immediatamente il rapporto tra distanza e potenza invece corpi di altre persone non sentono queste cose qui c'è un'intelligenza somatica e allora siccome ciascuno nasce con una certa intelligenza per arrivare all'intelligenza logico-matematica che è quella che insegna la scuola bisogna partire da dove sei se io ho un'intelligenza musicale devo partire da lì perché sono lì che abito io arriverò anche a quella logico-matematica ma la prima la dove sono mi deve essere riconosciuta e a partire da lì mi si fa acquisire altre forme di intelligenza ma nessuno dei professori ha mai letto quell'infinità di libri scritti da quello pedagogista americano che è Gardner Howard Gardner intitolato intelligenza multiple oppure forme mentis questi sono i libri da leggere cari professori questi sono i libri da leggere per capire queste sfumature perché l'intelligenza logico-matematica prima o poi la impari comunque e anche i test di intelligenza cosa misura i test di intelligenza il quoziente di intelligenza misura solo quell'intelligenza lì logico-matematica perché è l'unica calcolabile non ti misura l'intelligenza musicale neanche quella psicologica neanche quella linguistica quelle robe lì non sono misurate e non sono misurabili e allora classi di 12-15 studenti individuazione della qualità delle varie intelligenze i professori sottoposti a un test di personalità prevedere il livello di empatia far passare i ragazzi dallo stato pulsionale allo stato emotivo in modo che abbiano una risonanza emotiva dei loro comportamenti e poi fare l'ultimo passaggio dallo stato emozionale allo stato sentimentale perché i sentimenti a differenza di quello che si crede i sentimenti non li abbiamo per natura i sentimenti si imparano e questo non da oggi ma dall'origine dei tempi tutte le tribù primitive insegnavano i sentimenti del permesso proibito del sacro e del profano del totem e del tabù e questi sentimenti li impari attraverso lunghe narrazioni miti esempi racconti come fanno le nonne quando raccontavano le storie le mie nonne quelle di oggi penso che si limitino a fare il lifting ma le mie nonne raccontavano delle storie anche storie trucci prendiamo il cappuccetto rosso è una storia atrucia a un certo punto il cacciatore che taglia la pancia del lupo dalla pancia del lupo tira fuori la nonna una roba pesante ma come dice giustamente Freud a un cacciatore non tenete lontano i bambini dalla conoscenza del male non ditegli che tutto il mondo è bello perché non li preparate all'esperienza del male e del dolore quando muore un vostro familiare non mandate il bambino dal suo amico portatelo al funerale fateli vedere il morto lui capirà solamente poco di che cos'è la morta ma intanto comincia ad acquisire una nozione che è la nozione di mortalità che è molto importante e quando nella vita gli capiterà il dolore e tutte queste altre cose la dimensione negativa della vita la fatica di vivere lui avrà imparato da queste esperienze mentre sarebbe creati degli handicappati se li tenete fuori dall'esperienza del dolore dall'esperienza anche della morte e li lasciati indifesi i sentimenti si imparano i greci che sono il popolo più intelligente ma è apparso sulla faccia della terra come dicevo prima avevano nell'Olimpo riempito l'Olimpo non tanto di dei falsi e bugiardi avevano fatto la grande scenografia di tutti i sentimenti delle passioni umane Zeus era il potere Atene era l'intelligenza Afrodita la sessualità Ares l'aggressività Dioniso la follia Apollo la bellezza queste cose le impari oggi non possiamo più ricorrere ai miti perché non ci crediamo più purtroppo anche se ai bambini piace la metodologia greca lo dico dal numero di vendite di libri per i bambini i miti greci stanno sempre al primo posto però se non crediamo più ai miti almeno abbiamo la letteratura la letteratura è un serbatoio enorme di acquisizione del mondo sentimentale perché la letteratura ti insegna che cos'è il dolore in tutte le sue forme qualità declinazioni coniugazioni ti insegna che cos'è l'amore in tutte le sue espressioni possibili immaginabili ti insegna che cos'è l'angoscia cos'è la speranza che cos'è lo spring che cos'è la noia cos'è la disperazione cos'è la tragedia queste cose le impari lì e quando capita il dolore se la tua mente ha un reticolato del mondo sentimentale non fai la fine del giovane Werther che si suicida ma te la cavi e giustamente Eschi lo diceva il dolore è un errore della mente errore nell'accezione di errare della mente la mente erra perché non ha schemi in mente non ha acquisito la configurazione dei sentimenti Clifford Stoll che è stato uno degli inventori dei computer e soprattutto quello che l'ha diffuso in tutto il mondo negli anni 60 nei primi anni 2000 ha scritto un libro Etido da Garzanti che non so se lo trovate perché i libri intelligenti spariscono subito perché posizionano i best seller i libri più stupidi che esistano quelli si vendono durano tre settimane anche l'ora e non di più se però un libro è intelligente voi pensate che oggi sarebbe possibile pubblicare l'essere nulla di Sartre in realtà negli anni 60 e 70 si pubblicavano e si vendevano non sto a dire la critica della giumpura di Kant però anche quello la cultura italiana è rimasta in arretrato chiuta nella cultura idealista e fascista fino al 1970 dico questo perché funzionava l'idealismo l'idealismo di Giovanni Gentile e il liberalismo di Croce fuori di quei due non si conosceva nessuno non sapevamo chi era Heidegger chi era Sartre chi era Merleau-Ponty chi era Foucault non sapevamo niente non sapevamo c'è stata questa grande operazione di traduzioni e ecco questi libri stupendi oggi non esistono più ci sono le barzellette di Totti non lo so la Litizzetto ci sono quelle robe qua oppure i romanzi d'amore almeno una volta per quelli che non avevano una cultura c'era almeno Grandotel che costava meno e tenero anche le illustrazioni adesso invece ci sono i romanzi i best-seller best-seller ma vi prego il livello culturale italiano è pauroso è pauroso l'Ocse ci ha detto nel 2021 e mi è stato confermato ieri in una conferenza che ho fatto con lo statista quello che fanno le statistiche che adesso mi ricordo neanche il nome insomma il più bravo di tutti vabbè quando si diventa vecchi si perdono anche i nomi meno male fino a perdere se stessi che davvero abbiamo finito che diceva l'Ocse diceva che il 70% degli italiani sa leggere ma non capisce cosa legge capito bene? 70% e dopo vi spiegate il populismo ma certo che il populismo trionfa perché in una società complessa dove io non capisco niente come si risolvono i problemi perché i problemi sono grossi nelle società complesse non sono semplici come non è una società semplice come quella dei nostri nonni che lavoravano nei campi in una società complessa il primo che ti dà uno slogan che ti sembra risolutivo di un problema basta tu gli vai addietro è ovvio è ovvio è ovvio pensate che nel mondo l'80% dei paesi sono governati da dittatori da dittature o autocrazie solo il 20% sono paesi democratici solo il 20% se guardate l'Europa quel gruzzoletto di Asia che costituisce l'Europa guardate che è grande come un grappoletto d'uva rispetto a tutta l'immersità della Russia India Cina e la democrazia va difesa e come si fa a difendere la democrazia non c'è un altro modo se non la cultura democrazia è una parola greca demos vuol dire popolo kratos vuol dire potere potere al popolo che potere è? potere decisionale però dice Platone perché il popolo possa decidere bisogna che il popolo sia istruito e perché sia istruito è necessario cacciare dalla città i retori i sofisti e i retori i sofisti perché ingannano con falsi silogismi con false informazioni con paralogismi ingannano le folle mentre i retori li seducono con la mozione degli affetti dopodiché io lo seguo perché mi piace quando voi andate a votare come votate? ah con lui mi piace ma state scherzando con lui mi piace guardate che su base irrazionale la democrazia è già morta perché la democrazia non è andare a votare ma come diceva giustamente Giovanni Sartori grande politologo la democrazia non consiste tanto ad andare a votare dovete andare a votare dobbiamo tutti andare a votare sempre non ci vuole niente a slittare in quella condizione in cui non si può più votare però non dovete pensare che la democrazia consiste in questo la democrazia consiste in cose la democrazia consiste per esempio nel fare gli asili nido per liberare le donne dalla vita esclusivamente domestica e asociale democrazia vuol dire eliminare le liste d'attesa nella sanità democrazia vuol dire aiutare quelli che non ce la fanno a proseguire gli studi perché costano troppo le tasse universitarie comprare i libri dargli il bolso di studio questa è democrazia cose cose da fare va bene mi fermo qua se non mi arrabbio troppo bene diceva Platone bisogna cacciare retori sofisti cioè quelli che ingannano e quelli che illudano quelli che seducono con le loro frasi a effetto e quelli invece che li imbrogliano bisogna eliminarli e poi bisogna educare il popolo di Atene bisogna fare tanta paideia in greco si dice così educazione e nel frattempo lui che aveva inventato la democrazia dice e nel frattempo diamo il potere ai migliori gli aristoi aristoi è la parola greca che sta per i migliori in pratica governi tecnici noi ne avevamo uno che era ottimo l'abbiamo buttato via e adesso andiamo avanti con quello che c'è teniamo presente queste considerazioni la democrazia si regge sulla cultura mancanza di cultura con una società che al 70% non capisce cosa legge anche perché quello che è successo è che siamo passati dall'homo sapiens all'homo videns i ragazzi per primi è un passaggio che determina un obnumilamento della nostra mente che cosa vuol dire passare dalla lettura alla visione quando voi leggete fate usate un'intelligenza che si chiama sequenziale cioè seguite le righe da sinistra a destra poi tornate a capo avanti di seguito e il vostro cervello è obbligato a fare un'operazione che consiste nel trasformare i segni grafici in immagini il segno grafico C A N E cane quando lo leggete il vostro cervello deve costruire immediatamente un'immagine l'homo videns che è quello che l'intelligenza visiva invece non è un'intelligenza sequenziale è un'intelligenza simultanea quando guardate un quadro non è che andate da sinistra a destra poi tornate a sinistra e tornate a destra è la visione di esonere il cervello da tradurre i segni grafici in immagini perché c'era lì davanti l'immagine quando io andavo a scuola elementare c'erano i sussidiari che non avevano neanche una figura i sussidiari di oggi invece sono pieni di figure con 4-5 parole messe lì accanto alle immagini allora per imparare la parola l'elefante devi vedere l'elefante se non l'hai visto non capisci di cosa stai parlando ma voi capite che passando dall'intelligenza sequenziale a quella visiva oltre a perdere la capacità cerebrale e la si perde definitivamente con l'informatica questo diventa ancora più 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 frequente no? perché noi oggi anche i giovani di oggi le cose che sanno non è perché le hanno lette le sanno perché le hanno viste o perché le hanno sentite sentite anche benissimo anche danno audiolibri perché no? o viste perché hanno visto i promessi sposi in televisione ma non è che le hanno lette i promessi sposi capito? il degrado come avviene lentamente a poco a poco con un'infinità di gratificazioni perché è più gratificante vedere i promessi sposi in televisione che leggere i promessi sposi perché a leggere si fa fatica e quindi si degrada l'umanità ma a poco a poco a poco a poco lo si fa inavvertitamente con la nostra complicità perché ci piace di più vedere che leggere vabbè chiudiamo questa brutta storia dunque per finire sulla scuola oltre a te di personalità e professori la scuola dovrebbe abolire il ruolo degli insegnanti e qui vedo che nessun insegnante batte le mani mi raffa so già abolire il ruolo per la semplice ragione che se un professore non funziona lo sanno i ragazzi prima di tutto perché sono più svegli e poi perché ce l'hanno davanti lo sanno i genitori lo sanno i colleghi lo sa il dirigente scolastico lo sanno tutti e allora cosa si fa se non è all'altezza dice non si può cacciare perché è di ruolo e allora uno che è di ruolo è autorizzato a demotivare gli studenti per 40 anni finché non va in pensione no e allora vogliamo il ruolo perché le scuole parificate serie non gli esaminifici vanno meglio dalle scuole pubbliche perché i presidi nelle scuole parificate si scegliono i professori li tengono tre mesi in prova se vanno bene portano il contratto a un anno se vanno bene e loro rinnovano se non vanno bene li licenziano perché questo privilegio ai privati e non alle scuole di Stato lo stesso privilegio che hanno gli ospedali privati rispetto agli ospedali pubblici tenete conto che all'ospedale pubblico gli si dice tu devi fare mille tac al mese quando sei arrivato al numero mille la coda invece privati fai quanto ne vuoi e la regione paga a piedilista perché e si chiamano privati capite che cosa vuol dire questo passaggio graduale verso dove andiamo il ruolo dovrebbe essere abolito gli operai di all'Ivo non sono di ruolo quanta gente non è di ruolo e se non sei capace di fare quel mestiere vai a casa i genitori i genitori nelle scuole superiori devono sparire perché a loro non interessa niente la formazione dei loro figli interessa solo la promozione e se i figli non sono promossi si ricorre al TAR e ai professori per evitare di di passare le vacanze dei tribunali cosa fa? li promuovono tutti facendo riferimento al 2018 che è stato l'ultimo anno insieme un po' al 2019 della maturità pre-covid cosa vuol dire fare esami di maturità quando il 99% delle persone sono promosse vuol dire che non c'è meritocrazia ma la meritocrazia non vuol dire mandare avanti i più bravi che magari sono anche già assistiti dalla cultura che si respira in casa meritocrazia vuol dire incominciare a sollevare le sordi di tutti quelli che vengono a scuola creare le condizioni per cui possono migliorare e quelli che non studiano non quelli che non ce la fanno ma quelli che non studiano bisogna bocciarli e voi i padri dopo ricorrono al TAR e allora li promuoviamo tutti e va bene questo è tremendo chiudevo citavo prima Clifford Stoll quello dei computer il quale in un'intervista l'intervistatore gli chiede però il computer potrebbe perché lui diceva il computer se qualche imprenditore pensa di poter fare più soldi con i computer che ne prenda anche mille di computer perché no io non posso parlare mal dei computer l'ho inventato io ma nella scuola mai è la domanda ma la scuola gli intervistatori diceva nella scuola se c'è un cattivo insegnante il computer può aiutare il ragazzo a imparare quello che il cattivo insegnante non è in grado di insegnargli e Clifford Stoll risponde no i cattivi insegnanti si cacciano e si prendono quelli buoni ma ragazzi mi rendete conto cosa vuol dire la digitalizzazione nella scuola che lo vuol dire il computer alla scuola ma i ragazzi sono più bravi dei professori per muovere quelle macchine lì e sempre Clifford Stoll dice che un quarto d'ora di un vero maestro non equivale a due ore di computer tenete conto che il computer poi disalinea il cervello perché il computer funziona secondo uno schema binario uno zero uno zero bianco o nero come referendum sì e no ma quando tu devi vivere in una società complessa non puoi lavorare con un'intelligenza binaria devi lavorare con un'intelligenza complessa e questa te la può dare solo la scuola se è fatta bene e se non la impari saprai dire solo sì e no sarai capace solo di fare referendum e basta e però ormai va così va così chiudiamo dai che siete stanchi e io più di voi dunque dovete sapere che i ragazzi dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della potenza biologica hanno un corpo forte bello più bello del nostro e più forte del nostro hanno il massimo della potenza biologica e anche quel motivo un po' usurato ma però secondo me opportuno veline e calciatori è vero cosa possono vendere le veline la bellezza e i calciatori la forza la potenza biologica è solo quello che gli chiede il mercato non gli chiede altro forza e bellezza poi hanno il massimo della potenza sessuale dai 15 ai 30 anni ma non procreativa perché? perché tu sei idoneo alla generazione a partire a 13 14 anni puoi generare però di fatto puoi generare solo 33 34 35 non so perché? è perché la nostra struttura economica è fatta in questa maniera che non è un lavoro che se ce l'hai non è a tempo indeterminato se non è a tempo indeterminato devi vivere con i tuoi genitori non puoi farti un mutuo e non puoi generare inutile di sbraitare contro la denatalità se la nostra struttura economica non investe sui giovani ma in maniera seria dandogli lavori a tempo indeterminato in modo che possono prendersi un mutuo in modo che possono andare a vivere da soli e smettetela di pensare che le parole risolvono i problemi i problemi sono prima delle parole la denatalità non è una cattiva volontà dei giovani molti giovani vorrebbero avere dei figli ma non te lo possono permettere basta e guardate che la denatalità è il primo sintomo del declino di una cultura e secondo me è anche la caratteristica del nostro razzismo perché noi italiani diciamo sempre io non sono razzista però in quel però c'è tutto il razzismo che alberga dentro di te cos'è questo razzismo? io mi sono fatto un'idea non è che mi vengano a dire che gli immigrati stuporano le nostre ragazze questo lo sappiamo fare benissimo anche noi oppure non so che che cos'altro portano via il lavoro provate a chiedere a un ristoratore se trova dei ragazzi che vadano a lavorare venerdì al sabato la domenica basta queste storie qui basta ribellatevi un po' questi discorsi noi siamo razzisti per un'altra ragione abbiamo paura che gli immigrati siano biologicamente più forti di noi e non è una paura infondata provate un po' uno che parte dalla Nigeria ci mette tre anni ad attraversare il deserto del Saran 1,2,3 riprende allora 1,2,3 va bene e su 100 che parte ne arrivano 10 in Libia una volta che sono in Libia devono sottoporsi alle torture che qualche volta vi hanno fatto vedere qualche immagine ingabbiate in certi posti e sottoposti a lavori forzati e reggono anche questi due anni poi alla disperata prendono un barcone e abbiamo visto ieri che disastro è successo ce l'abbiamo noi questa forza no non ce l'abbiamo e allora loro sono biologicamente più forti di noi ovvio biologicamente e psicologicamente e questo è dimostrato anche a a livello atletico calcistico no abbiamo una squadra di calcio piena di neri no perché anche l'atletica perché sono più forti di noi fine e come declinano la società declinano per carenza biologica e psicologica quando io insegnavo al liceo nel libro di storia c'era scritto che l'impero romano era crollato per la corruzione dei costumi e io dicevo e parlo il professore intelligente rispondevo no lasciamo perdere queste sciocchezze facciamo una bella storia economica di Roma sbagliavo su tutta la linea l'impero romano è crollato per la corruzione dei costumi perché a Roma che aveva allora 600.000 abitanti non lavorava nessuno perché tutti mangiavano quelle derrate alimentari che venivano dalle colonie e la gente passava il tempo o ai circhi a vedere la lotta tra uomini e animali o nei postriboli dopo un secolo hanno dovuto importare barbari per la canalizzazione delle acque dopo due secoli hanno dovuto importare barbari per fare gli eserciti la legione e dopo tre secoli aveva un imperatore barbaro ovvio il nostro razzismo in Inghilterra c'è il sindaco di Londra è un musulmano vi immaginate un musulmano sindaco di Milano di Roma il presidente del 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 Regno Unito è un pakistano ve lo immaginate da noi queste cose vedete come siamo arretrati difendere l'italianità ma se c'è un paese che non ha un'etnia propria ma che siamo stati occupati da tutto il mondo noi ha incominciato fin dal mondo antico i fenici i greci gli egiziani poi nel medioevo sono arrivati i musulmani poi sono arrivati i normanni poi sono arrivati i francesi gli inglesi perché siamo belli e creativi perché abbiamo fuso tutte le razze non c'è un'italianità c'è semplicemente una fusione di razze basta con una lingua che è diventata univoca grazie alla televisione perché prima si parlava solo dialetto e un veneto che cosa sapeva come faceva a parlare con un siciliano a gesti dai un po' di storia un po' di cultura un po' di quelle cose che ci fanno ragionare meglio torniamo ai giovani massimo della forza biologica massimo della forza sessuale massimo della forza ideativa dai 15 ai 30 anni a il massimo della potenza ideativa poi declina e cosa gli facciamo fare ai giovani noi tanto per dirne una non so Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni non a 60 cosa facciamo fare noi giovani facciamo fare lavoro a progetto lavoro a cocò lavoro in affitto quando non gli facciamo fare le fotocopie l'ideazione dei giovani è potentissima non sarà strutturata come è strutturata l'esperienza di una persona che è un po' in là con gli anni ma quella persona che è un po' in là con gli anni non inventa più niente le invenzioni ideazioni sia dai 15 ai 30 anni io stesso a 24 anni ho scritto il mio primo libro che era lungo 800 pagine intitolato il tramonto dell'occidente quello è stato il mio pensiero poi tutto il resto è un modo di dire la stessa cosa in certi scenari diversi ma è quella roba lì che dico nient'altro nient'altro e l'ho pensato in quell'epoca lì e noi non li usiamo questi giovani in termini di attività non li usiamo non li usiamo gli facciamo fare delle cose in essenziali e ripeto le tre generazioni allungono sempre di più la possibilità che un giovane possa inserirsi e poi arriveremo a livello americano dove si trova il posto fisso a 35 anni e a 50 sei già fuori o comunque guardate con una certa sufficienza questa è la vostra condizione adesso non pensate che io abbia esagerato avrò semplicemente fatto vedere gli aspetti da cui ci dobbiamo difendere se però voi volete essere ottimisti fate pure io non ho nessun problema tanto io sono vecchio anche se degrada ancora un po' questa cultura italiana va bene io non ne sopporterò gli effetti una cosa però so mi ricordo che una volta quando sono andato parlare all'università di Praga c'erano i ragazzi che erano allarmati parlo di dieci anni fa erano allarmati dall'ipotesi che venisse e tornasse la Russia a mettere il tallone sul loro paese lo scarpone sul loro paese e io gli ho detto allora ma adesso non fate i paranoici capisco che avete subito per anni e anni il dominio dell'Unione Sovietica ma adesso le cose sono cambiate insomma non dovete star qui sempre allerta che arrivi l'Unione Sovietica il rettore che era al mio fianco il rettore dell'Università si è rivolto a me sa cosa mi ha detto caro professore l'ottimismo è la caratteristica delle persone poco informate perfetto grazie grazie professor Galimberti prima di lasciarci volevo farle un piccolo omaggio da parte di una nostra artista locale che ha realizzato spero di prenderlo giusto un piccola penna che è un fiore che così riesce a fare meglio il firma copie va bene grazie ecco colgo l'occasione poi per ringraziare anche un altro sponsor che ci ha assistito che ci ha dato una mano che è la Veneta Agricola e vi do appuntamento giovedì prossimo con Dario Vergassola e Lorenzo Marini grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti